Criteri di divisibilità per 5 e per 11. Un numero è divisibile per 5 quando l'ultima cifra è 0. Oppure 5. Quindi 540, 1235, 15, 20 sono tutti divisibili per 5 perché terminano con 0 o 5. Mentre per scoprire se un numero è divisibile per 11 devi procedere in questo modo. Togli l'ultima cifra e ottengo due numeri. Poi esegui una sottrazione tra i due numeri. In questo caso 154 l'ho separato, 4 è l'ultima cifra e allora faccio 15 meno 4. Il risultato è 11. Infatti se il risultato è nella tabellina dell'11, quindi 11, 22, 33, 34, 55 eccetera. Allora il numero è divisibile per 11. Quindi ripetiamo. Se il risultato di tale sottrazione mi dà un numero che appartiene alla tabellina dell'11, quel numero è divisibile per 11. Se volessimo fare un altro esempio, 671. togliamo l'ultima cifra e ottengo 67 meno 1 uguale 66. 66 fa parte della tabellina dell'11. Infatti 11 per 2, 22, per 3, 33, per 4, 44, per 5, 55, per 6, 66. Quindi anche il numero 671 è divisibile per 11.